Un'autora incinta, ciao! Veloce! Mi sono sbagliato i casi! Viene, casi, chi li vede? Aspetti un buone fardo! La situazione della guerra è... La ciappino fino a tra! Torna a casa un soldato! E le ciappino, signor, sì! In cammina molti dì! Molti dì che cammina già! Impaciente da rimar! Dopo tanto camminare! Dopo tanto camminare! Da ciappino fino a bra! Torna a casa un soldato! E le ciappino, signor, sì! In cammina molti dì! Molti dì che cammina già! Impaziente da rimar! Dopo tanto camminare! Dopo tanto camminare! E non c'è che dire! E ben posticino! Ma che razza di mestiere gli avrà dato il destino? Sempre in marcia, senza una gira, è così! La sua roba tutta sotto sopra! Mira! Giuseppe! Il suo San Giuseppe dov'è finito? È una medaglia con San Giuseppe e il suo patrono in argento e oro scolpito! No! Meno male! Ma mancano gli stari! Nescono pacchetti con dentro ogni affare! Nescono cartucce, uno, uno... Specchio! Specchio! Dentro cui non ci si vede parecchio! Ma il ritratto dov'è? È un ritratto che la sua bella è regalo gli diè! L'ha ritrovato! Ruga, ruga ancora un pochino e tira fuori un piccolo violino! Si vede che è un po' al mercato, ma continuamente accortato! Dai, violino! No, perdimelo! No, no! Dammelo in cambio di questo libro! Non so leggere! Non importa da per leggere! È un libro! Non un libro! Una cassaforte! Basta aprirne le porte, titoli, biglietti, oro! Sì, vedete! Ho molto piacere! Baudonce, Nasdaq, Bigl, corso dei cambi! Non ci si capisce niente! Non ce ne leggo, ma capire come si fa! Continua! E presto a capire! Se questo libro vale così tanto, a me questo libro è costato dieci soldi! Soltanto! A maggior ragione! D'accordo! Ho approvito dell'occasione! Grazie a tutti